Ciao a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti su Gioca con Mike E facciamo un altro giro di Battlefield 4 sulla Playstation 4 E c'è un casino della madonna qua, mamma mia, già non si capisce niente Eh dai, sono appena venuto, sono appena venuto Che vuoi tu, che vuoi, spostati, non vedo niente C'è il muro? Ok, ok, oddio! Sparo a volontà, sparo a volontà, non c'è capito niente Sai che faccio? Lo sapete che faccio? Mi metto qua, per terra Dai, il treppiedi, metti il treppiedi Perché non metto il treppiedi? Ah, adesso c'è il treppiedi Non vedo niente No, 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 salta, salta, salta! Oh, Dio, santo Tipi sportivi non sanno saltare una scaletta, tu, non ci credo Oddio, sono vivo! Vai, 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 vai! Scappa, scappa! Ok, ce l'ho fatto Ok Ma come... Come ci riesce Ok Riproviamo di nuovo Non ci capisco niente più Sparo, sparo Sparo Col missile, ragazzi, col missile Ok, rianimato Perfetto Ok, vediamo se becco qualcosa adesso Spostati 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 Ecco, non vedo niente Ok Sparo a volontà Tanto qualcosa becco sicuramente Ma come? Vabbè Con questo Ok, rianimato Perfetto Rianimato già due volte Ok E se tiro una granata Che succede? Ok Oddio Tutti con sto coso Aspetta, ma ce l'ho anch'io Perché serve? Serve? Non serve sto coso Non mi piace Non mi piace E se vado di dietro? Se vado di qua? Ok Dove sono? No Mi sto allontanando Ok Dobbiamo andare di nuovo in tia Andiamo di nuovo qua Ah Qua c'è il macello Il macello Andiamo di nuovo Il macello Qua basta che prende e spara Non si capisce niente Non è che devi essere bravo qua Qua basta che Mamma mia ragazzi Che Mamma Che Non ho granate? Non ho granate Eh Fanno paura Come? Come posso? Non posso saltare di qua Ma che pirle sono? No Andiamo di qua Ok Proviamo Così Ok Vediamo se becco poco Cosa Mi metto diritto Mamma mia Ah qua c'è un altro buco Mica non l'ho visto Ok Sì sì vai vai Spara No granata 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 Oh Due Oddio Guardate Due per cento di vita ragazzi Aspetta mi devo riprendere Dove stanno i medici qua? Ok Spariamo Spariamo tanto a casaccio Non è che vedo qualcosa Eh si spara a casaccio Ok Eh qua non si vede niente ragazzi Non si può fare così Mamma mia granata Ok No Peccato Ho preso uno almeno Mi sa che corro dentro Non me ne frega niente Almeno così qualcosa prendo È un macello ragazzi Un macello Mi piace Mi piace così Mi piace Cerco di andare di nuovo qua Dove siamo? Oh ok Oddio E chi era? No E come è arrivato là? Eh cacchio Non ci posso credere Ma di dove sparano? No Ma io non ci posso credere Ok vivo Mi hanno rianimato già Qualche Madonna Non vedo niente Qualche cento volte Mi hanno rianimato Mamma mia Non becchi niente Non becchi niente così però Ok adesso Aspettiamo Aspettiamo Eh non deve passare uno Dai Non deve passare qualcuno Granata Niente Niente Facciamo così ragazzi è meglio Noo di dietro Di nuovo Rianimazione 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 Ragazzi dai Eeeh no Niente Mi fanno crepare Ragazzi Ok ok Non ne vale la pena Eeeh no Non vedo niente Non vedo Non vedo se passa qualcuno No no qua Mamma mia Ragazzi Che mappa Ma che sparano Eh si mettono davanti Ste pirle Ok Tutti sparano Con sto coso Qua Nale Macconan Macello Ragazzi C'è un Macello E dove sono finito Andiamo di qua Ok Preso uno Non l'ho preso io Peccato Andiamo avanti adesso Ok Perfetto Mi piace Qua Mi piace Andiamo a caricare Ok Mannaggia Era mio Bastardi Dai dai Non ci capisco niente Che Che c'è Questo Che cos'è Mannaggia Dappertutto Vengono Dappertutto Ok Riproviamoci Naturalmente Tanto è quasi Finito il gioco No dai Un altro giro Dai lo posso fare Prima che muoiono tutti Voglio sparare A qualcuno No Sono morti tutti Vabbè Pecca Madonna C'era un Macello Ragazzi Un Macello Però Perfetto E' finita 500 A 0 Niente male Niente male Spero che Naturalmente No Non voglio Ok Ho già Spento il gioco Fa niente Spero che vi è piaciuto il video Ragazzi Lasciatemi un pollice Iscrivetevi E scaricano altri video Naturalmente Questo weekend Così Non vi lascerò soli Ragazzi Ciao a tutti Buon weekend Ciao a tutti